La raccolta differenziata nel Lazio cresce di circa 1,63 punti percentuali raggiungendo il 47,34% anche se rimane al quindicesimo posto tra le regioni italiane. Di contro però aumenta anche la produzione regionale di rifiuti che oltrepassa la soglia dei 3 milioni di tonnellate. È quanto emerge dal terzo rapporto Ecoforum Lazio organizzato da Lega Ambiente con il contributo della Regione Lazio. Per quest'anno abbiamo un dato entusiasmante per il numero di comuni che hanno superato il 65% di raccolta differenziata che sono ormai un terzo di quelli del Lazio, 127. Ci sono tanti comuni rifiuti free, ci sono tanti comuni plastic free. Però continua ad aumentare la produzione totale di rifiuti. Si risale per quest'anno sopra i 3 milioni totali di tonnellate di rifiuti prodotti e poi il dato della percentuale complessiva regionale non decolla perché c'è un freno enorme da parte del numero di Roma che è determinante in percentuale che porta in basso il complesso totale della raccolta differenziata del Lazio. Di particolare rilievo la situazione della capitale dove per la prima volta la raccolta differenziata scende al 42,93% e il traguardo del 65% previsto per legge appare irraggiungibile. Un dato che fa riflettere è la percentuale alla quale arriverebbe il Lazio senza la quota della produzione dei rifiuti di Roma, il 53%. La carenza impiantistica rappresenta sicuramente il limite più preoccupante in tutta la regione. Mancano impianti, mancano assolutamente impianti per le frazioni organiche soprattutto, mancano cicli normali per cui c'è una chiusura del ciclo all'interno della regione, dei territori, degli ambiti individuati dal piano regionale. A questo poi bisogna aggiungere che mancano le nuove buone pratiche. La regione ha legiferato sulla tariffa puntuale da raggiungere come obiettivo nel 2020 per tutti i comuni. Oggi saranno 5 i comuni che applicano la tariffa su 370 del Lazio. Anche in questa edizione sono stati premiati i comuni ricicloni, rifiuti fli e plastic free. 127 comuni del Lazio in aumento rispetto all'edizione 2018 in cui ne furono premiati 86. Io ho preso questa delega ai rifiuti nel 17 maggio del 2017, dove eravamo pari circa al 65%. Quest'anno gli ultimi dati ufficiali sono ben dell'82%. La premiazione che questa mattina avrà a luogo si riferirà comunque alla percentuale raggiunta nel 2018. Noi sul nostro comune abbiamo fatto un'importante azione di educazione ambientale. Si è iniziato proprio dalle scuole, dai ragazzini, quelli che sono più recettivi al rispetto per l'ambiente. Abbiamo fatto delle giornate e dei progetti che hanno avuto svolgimento durante tutto l'anno scolastico, grazie anche alla partecipazione della vita al pambiente, che è la società appaltante dei rifiuti a Montefiascone. Sull'ambiente abbiamo fatto veramente delle cose molto significative, perché per esempio abbiamo fatto una lotta ai fitofarmaci e abbiamo bandito il glifosate dall'intero territorio comunale e per questo siamo stati contattati anche da un sacco di associazioni. Anche le cambiante è venuta da noi quest'estate proprio in virtù di questa ordinanza che è stata anticipativa di un movimento che poi ha riguardato un po' tutto l'Alto Lazio. Anche le cambiante è venuta da noi quest'estate proprio in virtù di questa situazione.